benvenuti a bordo della barca dei porti d'europa che quest'anno riprende la navigazione per accompagnarci in un appassionante viaggio nella cultura del mare salperemo dalle isole del dodecaneso in grecia attraversando il mediterraneo nel mezzo approderemo nei principali insediamenti fenici e punici tarros nora l'isola di san pietro in sardegna favignana mozzi e palermo in sicilia le isole olie vi presento il nostro equipaggio il comandante marcos sua moglie afroditi sascia nipote acquisito di marcos roberta amica di sascia e infine toni il fedele amico di marcos che ci farà scoprire un nuovo modo di andare per mare intanto un gruppo di ragazzi si sta preparando per salpare da fiumicino e raggiungermi in sardegna da fiumicino e raggiungermi in sardegna di marco 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 di mar